Allora, eccolo qua. Oi, dude! E ride. Oi! Non dico niente. Quindi facciamo Veigar Syndra? Let's do this. Ok. Nanta, non se ne accorgono. No, no. Non hanno ancora detto niente, eh? C'è, è fantastico come a Diamond, probabilmente saremmo già fermo afflammati. Qua silenzio di tomba, non si sono neanche accorti che abbiamo preso Veigar Syndra. Thomas, oggi nei game che ho fatto sul main... Ecco, se ne accordo! Vabbè, stavo scherzando. Stavo per dire che non avevo beccato Flamer. C'è, solamente un game. C'era uno che flammava un po'. Are you serious? Yes, it does. Of course it does. Questa nida lì che si trova a Gold con il bordino Diamond. Cosa? Cosa? No, ma davvero, ma perché non start? Siamo tutti al 100%. Oh, vedi. No, finalmente. Stavo a parlare. Ma facciamola anche se arterà il blu così mi manda proprio a cagare. Bonus! Cosa prendo? Lo stun o la Q? Ah, direi la Q. Tanto facciamo un po' i danni e poi andiamo... La Q, la Lu. Aspetta, aspetta, aspetta. Rimaniamo sneaky. Facciamo finta di... Ok, quella lì ha un 800 HP. Qui. What the fuck? Ok. Ok, dai. Guarda, è stato qua. Non è facile. Viaggiamo ora che faccio il 3 tipo. Yeeeeh! Nice. Ottiva! Bella! Yes! Oh, v-com! V-com! E la gente non si fida di noi. Ma vada a te. Quindi prendi tu l'oggetto da support? Si, prendo io l'oggetto da support. Don't worry. Ok, io ho preso 3 donna ring. No, il K. Io ho preso boost e pozioni. La sidestone non ci serve, vero? No, no, no. A posto. Tanto tra un po' faremi 3v2. Tanto che stiamo fiddati. Ciao. Volevo vedere se li pronti. Oh, merda! No, ho massato la cura. No! Eh, vabbè, leona non ammala. Ah, aspetta, c'è l'E.C. C'è l'E.C. che vuole provare. Go, go! Ah! Nooo! Nooo! Oddio! Oddio mio, quanto sono scarso. Vabbè, gg. Vabbè, shetup. Stai un attimo per... Per zero. Guarda che bella la B. YOLO BUILD. Da YOLO BUILD. Dai, guarda quanto è vita ho, che figata. Ho 1.200 di vita. Ora posso completarlo con le volte. Non le volte. Guarda... Ha 110 di epic al minuto 7. Ottimo! Qualcuno mi ha fatto una donazione e non ho potuto vedere di quanto è, però. Big Money. Nooo! Però è ok... Eh, vabbè, è harassato un po'. Oh, oh, sono morto Bene, va bene Ho fatto dal bigger fan Guarda! Guarda questo! Fammi una risata! No, 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 no! Lol, lol, lol Ok, vado qui Ero senza volo, ero spaventatissimo Ah, sono tutti minti invece, ok SS SS Sto arrivando Format, dai, possiamo testare per ora Perché hanno usato ulti veona e... E Ari Ma anche Ari Barre lo c'è Ero una mana, porca miseria Ero lo stun fra 3, 2, 1 Oh, lo prendo! Non stoppiamo! Uhhh Ok, perfetto Chiudila, chiudila, chiudila L'ho presa, l'ho presa Dovremmo averla presa Io ho anche i mobility, quindi a posto Sono mai risata, sono mai risata, no, no, no... Eeeeeeeeee Arrivo arrivo Ho preso? Aspetta che flash Aspetta vabbè A cagare proprio No cazzo Oh shits Hai tato te ok possiamo andare lol andiamo a cercare questa tutta oh mio dio ho ferrato la combo buon combo wow such diamond meccanics such meccanics oh 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 you mean master k ah è vero k i had faith sorry bot siamo col duro